Ciao ragazzoli e ragazzole, come state? Spero tutto bene. Spero che da voi non faccia il caldo infame che fa da queste parti perché è veramente insopportabile, anche se io adesso in realtà sono refrigerata dall'aria condizionata. Mettetevi comodi che siamo preparati nel mio argomento preferito dell'ultimo periodo, ovvero William Shakespeare. Se lo so che non vedevate l'ora, state anche già sparando i fuochi d'artificio fuori dal balcone perché siete gioiosissimi sentirmi parlare ancora una volta di Shakespeare, no? Ma in realtà questo è il secondo appuntamento dedicato al festival Shakespeareano, per cui oggi parliamo del Riccardo II, perché sabato andrà in onda su BBC Two il primo appuntamento appunto dedicato a questa miniserie che si chiama The Hollow Crown composta dal Riccardo II, l'Enrico IV, parte prima e parte seconda e poi l'Enrico V. Se non avete una mazza da fare sabato sera, io vi lascio il link sotto, potete vedervi BBC Two live. Inizia alle 10, dura più o meno due ore e venti. Io non lo posso fare perché qui ho una mia amica e dubito fortemente che lei abbia una voglia infame di guardarsi il Riccardo II senza mezzo sottotitolo, inglese Shakespeareano, che non è esattamente l'inglese più comprensibile di questo mondo. Detto questo, iniziamo a parlare del Riccardo II. Riccardo II, storicamente, è il re che è venuto dopo Edoardo III. Vi avevo già raccontato come era andata più o meno nella linea di successione. Brevemente, suo fratello maggiore è morto, suo padre era morto, per cui è salito lui, che era il nipote in realtà del re precedente. Succede che Riccardo II non è esattamente il re più amato della storia dei re inglesi. Ma arriviamoci per grado. La tragedia si apre non con l'incoronazione di Riccardo, ma con un conflitto tra questi due personaggi, che sono Mowbray e Henry Bolingbroke. Questi due cittadini inglesi si accusano a vicenda di aver rubato dei soldi destinati a dei soldati. Inoltre, Mowbray, ad un certo punto della discussione, accusa Henry di aver ucciso il duca di Gloucester, che sarebbe lo zio sia di Henry che di Riccardo II, perché Bolingbroke e Riccardo II sono cugini. Interviene John D. Gaunt, che è il padre di Bolingbroke ed è il duca di Lancaster, fratello del duca di Gloucester, dicendo, no, adesso, ragazzi, piano, smetteteli di fare questi litigi. Il problema è che Henry si infoia un pochino e sfida duello Mowbray, anche se in teoria non potrebbe, perché Mowbray è di rango inferiore rispetto a Henry, per cui questa cosa in teoria non si poteva fare, ma tant'è succede. Dopo questa scena lunghissima di cerimonia pre-sfida, nel momento in cui Bolingbroke e Mowbray imbracciano spada e lancia, Riccardo ferma tutto e dice, no, piano, adesso fate come dico io. Tu, Mowbray, te ne vai in esilio, non ti fai mai più vedere da queste parti. Tu, Bolingbroke, visto che sei mio cugino, ti concedo che te ne vai per una decina d'anni. Poi puoi tornare. John D. Gaunt non è esattamente il padre e lo zio più felice del mondo, gliene dice quattro suoi nipote e lì finisce questa contesa, diciamo. Dopo un po' John muore e lascia una cospicola eredità, eredità che in teoria dovrebbe andare a Bolingbroke. In realtà Riccardo cosa fa? La confisca per finanziare questa guerra in Irlanda, dove sta combattendo Roger Mortimer, padre di quell'Edmund Mortimer, che è l'erede al trono designato da Riccardo II, perché lui non ha figli maschi e non ne avrà neanche mai. Riccardo parte per la guerra, i nobili sono scontentissimi, dicono ma come si permette questo di fare una cosa del genere, oltretutto su cugino è comunque un nobile come noi, adesso andiamo noi a Diglio, la Bolingbroke. Bolingbroke, che non era felicissimo esattamente con il suo re, anche perché Riccardo le aveva impedito di sposarsi con una dolmildonna in Francia, sbarca in Inghilterra con l'aiuto di questi nobili e dice aspetta, io non reclamo soltanto le mie terre, provo a reclamare anche il trono e vediamo come mi va. C'è da dire che gli va bene, perché Riccardo capisce che al sostegno dei nobili perde quei pochi nobili che lo sostenevano perché vengono uccisi da Bolingbroke, in un certo senso viene obbligato ad abdicare e a lasciare la corona a Bolingbroke, che si incoronare col nome di Enrico IV, come ben sappiamo. Dunque, questa tragedia è profondamente diversa da Enrico IV e da Enrico V, perché ha tutt'altro tono. Mi spiego. Enrico IV, a differenza anche dell'Enrico V, era una commistione, diciamo, di generi, perché c'era le battaglie, quella di Shrewsbury contro Hotspur, c'erano le scene comiche con Fastaff e il principe Al, c'erano le scene fortemente tragiche, come la morte di Enrico IV, come la scesa al trono del principe Al come Enrico V. Invece, nel Riccardo II, per me prevale un tono neanche epico, proprio tragico. È una tragedia vera e propria. È una tragedia di questo uomo, che è Riccardo II, che è convinto di essere nel giusto fino alla fine. perché Riccardo II è fondamentalmente uno di quei re di vecchio stampo, uno di quei re che dice, qua sul trono mi ci ha messo Dio, quando io compro degli azioni come se la mia mano fosse guidata da Dio, per cui la gente deve stare zitta e fare quel che dico io, perché io ho ragione, io sono il re d'altronde. Il problema è che i nobili non hanno esattamente la visione di Riccardo II, e ad un certo punto capiscono che il mondo è andato avanti, e forse a comprenderlo meglio è Bolinbroke, che è più un uomo del popolo, che capisce quali sono le necessità del popolo, per cui prima di agire ci pensa un attimo, non è che fa quello che gli va in quel preciso istante, come invece in un certo senso fa Riccardo II, ma non in mala fede, semplicemente perché lui ha questa mentalità un po' più antica, un po' più medievale, mentre Enrico IV, Bolinbroke, è più spostato verso il futuro. Questa cosa si nota tantissimo anche nei dialoghi, nella maniera in cui questi due personaggi si esprimano. Abbiamo per esempio Bolinbroke, che durante la scena della disputa con Mowbray, si dimostra molto passionale, e anche molto terra a terra nella maniera in cui parla, perché arriva anche agli insulti abbastanza pesanti nei confronti di Mowbray, D'altra parte invece Riccardo mantiene sempre una certa paccataggine, nel momento anche in cui capisce che non c'è più speranza per lui come re. E in ogni caso non è che si imbeisce e dice cacchio quando lo becco Bolinbroke gli tiro il collo come se fosse una gallina, no, lui è tranquillo, fa questo monologo meraviglioso, ricco di termini comunque alti, ricco di metafore, di una bellezza, non so, meravigliosa, cosa che in bocca a Bolinbroke sarebbe sembrato forse assurdo, forse esagerato, perché Bolinbroke non si esprime mai così durante tutto il Riccardo II, ma neanche nell'Enrico IV, anche quando parla comunque con suo figlio, quando fa questo monologo dei doveri del re, non ha comunque quella regalità che ha Riccardo quando comunica con gli altri personaggi. A proposito, questo monologo che vi dicevo, che è bellissimo, è nel momento in cui Riccardo scopre che gli unici nobili che gli erano fedeli sono stati uccisi e le altre persone attorno a lui cercano, diciamo, di consolarlo, lui dice no, non parliamo di questa cosa, non cercate di consolarmi, tutt'al più parliamo di tombe, parliamo di epitaffi, parliamo di re che sono stati uccisi, e vi dicendo, poi volendo ve lo metto sotto. Comunque, se guardate il trailer di The Hollow Crown, la voce che hai sentito in sottofondo vi sta leggendo questo monologo, vi sta facendo questo monologo strafamoso, che è dall'atto terzo, scena seconda. Un'altra cosa bellissima, che ho prestato tantissimo, a parte i dialoghi su Shakespeare, che ho scontato che siano meravigliosi, sono anche alcune scene, per esempio questa scena di addio tra Riccardo e sua moglie. In teoria, la moglie di Riccardo era una bambina di 12 anni, però, per ragioni di teatro, di dammaturgia, se vogliamo, Shakespeare l'ha fatta donna, perché comunque questi due si dicono delle parole d'amore che io dubito che scandi bocca da una bambina di 12 anni. È una scena meravigliosa, che io non vedo l'ora di vedere interpretata, perché è veramente molto bella. Se non si fosse capito, sì, mi è piaciuto veramente tantissimo, e la figura di Riccardo II è veramente profondamente tragica. Una cosa interessante, è che in questa tragedia, vengono citate alcune situazioni, vengono nominate, anzi meglio, alcune situazioni, che si riproporranno poi, nelle tragedie successive. Scusate che sto controllando, cosa sta facendo Paciughino. Per esempio, questa cosa delle guerre civile, che dopo si riproporrà appunto, nell'Enrico IV. Enrico IV, che alla fine del Riccardo II dice, io devo andare a Gerusalemme a ispiare i miei peccati, per aver fatto abdicare Riccardo, e soprattutto per aver, in un certo senso, causato la sua morte. E anche viene nominata un'altra persona, viene nominato il Principe di Galles. Tra l'altro in una maniera subdola, perché se voi non sapete quale ruolo poi giocherà nell'Enrico IV, non lo notate neanche in realtà. Voi leggete a un certo punto, che uno dei nobili di Bolle, in Bruchevado, lui gli fa, scusi a vostra altezza, ma suo figlio dove sta? E questo parte con una filiprica allucinante, dicendo, ah, quel coglione di mio figlio, che cacchio ne so dove sarà, se mi è andato a bere a Taverna. E tu lo legge, dice, vabbè, ok, è andato a Taverna, è figlio di questo. Però, se io, avendo già letto l'Enrico IV, sapevo che questo era il Principe Al famoso dell'Enrico IV. Ed è fantastica, perché comunque è un collegamento all'opera successiva, che poi è un collegamento ancora con l'Enrico V, per cui Shakespeare è un genio. Ho detto questo per dire soltanto che Shakespeare è un genio. Sotto, nei vari link, vi metterò anche una cosa molto interessante. Radio Times, che è questa rivista inglese, ha fatto un'intervista, ha fatto scrivere due articoli agli attori principali di The Hollow Crown. L'intervista è rivolta all'attore che interpreta appunto Riccardo II, che è Ben Winshaw, Beniamino, per me per Gemma, che è un attore meraviglioso, è stratosfericamente bravo. E tra l'altro, io ho, non so, ho gioito come non so cosa, perché io e Beniamino la pensiamo uguale, perché anche lui ha detto che si incacchia quando dicono che Shakespeare è una cosa troppo da intelligentone, troppo da intellettuale, ha detto, non è vero, bisogna sfatare questo mito, per cui cercate di capire Shakespeare per tutti. Ovviamente lui l'ha detto in una maniera un filino più elegante, perché lui è inglese, è Ben Winshaw, e allora non l'ha detto come me, però il concetto finale era questo, per cui Ben, se tu sei un grande, io ti adoro con tutto il mio cuore. Gli altri due articoli invece sono scritti da Jeremianos, che parla dell'Enrico IV e da Tom Hiddensaw, che parla appunto dell'Enrico V. E ragazzi, c'è una cosa che questi inglesi non sanno fare, sanno anche scrivere gli articoli di giornale e scrivere delle cose fantastiche, per cui io vi consiglio di leggerle, perché sono veramente molto belli e molto interessanti e non sono scritti particolarmente da intelligentoni, anzi, sono scritti proprio molto terra-terra, per cui comprensibili veramente da tutti o leggeteli, perché sono veramente molto, molto belli. Come vi ho detto, appunto, c'è Ben Winshaw, che interpreta Riccardo II, Ben Winshaw, spero sappiate tutti chi è, nel caso voi non sappiate che Ben Winshaw era John Keats in Bright Star, meraviglioso in Bright Star, ha fatto, come cacchio si chiamava, Jean-Baptiste Grenouille, credo, nel profumo, nel film Trattore al profumo di Suskind, era nella miniserie di Hour della BBC, molto carina se volete vederla, e poi non mi viene in mente, sarà Q, nel nuovo James Bond, se vi può interessare, che Q in realtà era un vecchietto, non so perché ci ha messo lui che c'ha la faccia da nerd, comunque fa niente, ci sarà Rodney Kinnear che fa Bollenbrook, ci sarà Patrick Stewart che fa John Di Gaunt, e Clemence Poissy che fa la moglie di Riccardo II, Clemence Poissy per voi fan di Harry Potter a quella che faceva Fleur, per voi non fan di Harry Potter a quella che faceva Natasha Rostova in Guare Pace, quello della Rai, famoso con Alessio Boni. Bene, detto questo, io spero che voi leggiate Riccardo II, perché veramente ne vale la pena, è da un'opera meravigliosa, stratosferica, Shakespeare io lo amo sempre di più, spero che guardiate la miniserie di Hollow Crown, sabato è il primo appuntamento, poi tutti i sabati fino al, penso 27 di luglio, che è l'ultimo, che è l'Enrico V, che io non vedo l'ora di vederlo, perché sono qua in defibrillazione per l'Enrico V, che lo adoro, e, ah, giusto, volevo dirvi che il Festival Shakespeareano lo fanno anche qui in Italia, all'Arena di Verona, con una lettura di sonetti più la messa in scena di alcune opere, tra cui una, penso, diretta da Michele Placido, ma non so quale, non so, se qualcuno di voi si vuole azzardare e andarle a vedere, fatemi sapere se sono belle o se sono brutte, io purtroppo ho delle esperienze o meravigliose o orribili con il teatro Shakespeareano qua in Italia, per cui, sì, nel senso che per me Gabriele Lavia è un genio, e se per caso avete l'occasione di andare a vedere qualcosa diretto da lui o con lui come interprete di Shakespeare, io ve lo consiglio che per me è fantastico ed è uno dei più bravi. Se beccate l'Amleto di preziosi, con preziosi, anzi, non di preziosi, io vi pregherei di non andare perché è una cosa veramente da rabbrividire dall'orrore, perché se c'è un attore cane ad interpretare Amleto, veramente è stato lui, almeno io l'ho trovato così, non so se era quella sera che non era in forma, ma ragazzi, veramente mi sarei strappata le orecchie perché non ne potevo più e volevo strangolare l'attrice che faceva Ophelia. Se voi pensate che a fare l'Amleto, a parte Kenneth Brand che l'ha fatto al cinema, Lorenzo Olivier, per cui vabbè, ma a teatro lo fece Ben Winshaw nel 2004 e dissero che era una roba da farsi venire alla sindrome di Stendhal, cioè da svenire lì talmente lui era bravo, capito? Cioè loro hanno ben un winch a teatro, porca miseria, e noi abbiamo Alessandro Preziosi che è una cosa che non capisco, però vabbè, fa niente. Volevo farvi vedere Paciughino solo che non so dove è andato per cui non posso farvelo vedere perché ha spasso per casa. Sì, grazie a voi Paciughino è stato adottato dalla famiglia per cui lui adesso rimarrà qui con noi o lui o lei perché in realtà io non so ancora se lui è una lei. Penso che sia una lei però purtroppo io non riesco a capirlo tanto bene perché non ho ancora benissimo capito la differenza. Voi potreste dirmi sì, si vedono i gioiali di famiglia se è un maschio il problema è che in realtà i cuccioletti non si vedono tanto bene i gioiali di famiglia però domani vede il veterinario per cui mi chiarirà questo dubbio. I nomi io ce li ho già in mente se è maschio o se è femmina. Se voi volete consigliarmene qualcuno io ci posso fare un pensiero. Se no al prossimo video scoprirete come si chiamerà questa bestia pelosa che adesso zampetta per casa e mangia, dorme e fa i suoi bisogni in continuazione. C'ha questo per me nel suo ciclo vitale in questi giorni e mi ha anche preso per la sua mamma gatta perché ce l'ho praticamente sempre attosso. Bene, dopo queste ultime informazioni vi saluto vi auguro buon festival Shakespeareano buon Diolo Crown buon Ben Winsho buon Riccardo II e fatemi sapere se avete mai detto questa tragedia e se vi è piaciuta o no. Ciao ragazzi buona serata!